Si terrà domenica 19 al Teatro Mercadante di Cerignola alle 20.30 un interessante appuntamento teatrale dal titolo La Musica dei Ricordi. Organizzato dall'Associazione Amici della Musica di Foggia con il patrocinio comunale, è uno spettacolo che parla della magia musicale, capace di evocare immagini ed emozioni che rimangono nei nostri ricordi, attraverso una storia d'amore fra un bambino e il suo pianoforte, con cui condividerà i segreti ed i sogni della vita. Ideato e diretto dall'attrice foggiana Irma Ciccone, che ha preparato un collage di teste poetici uniti in un mix di musiche insieme a Francesco Chiappinelli, verranno eseguite dall'orchestra Pietro Mascagno in diretta da Raffaella Cardinale. Sul palco, oltre alla Ciccone, ci saranno Michela De Palma, Raffaella Montrano e Roberto Russo, con la partecipazione del soprano Rivalta Bufo.